Buongiorno e benvenuti a questa zuppa in diretta di oggi, mercoledì 4 aprile. Vediamo subito i giornali che cosa dicono in giornata. Intanto il tema fondamentale ovviamente è quello di Di Maio, che ha posto un veto a Berlusconi nel governo. Massimo Fini oggi sulla Fatto, cioè il giornale del Movimento 5 Stelle, dice Mattarella non può ricevere il Cavaliere perché è pregiudicato. Questo è il titolo, ma il senso del pezzo poi sarà diverso. A Di Maio ha risposto Salvini dicendo condizioni inaccettabili, questo lo ricordano tutti quanti i giornali, ma uno di questi giornali, C'è Repubblica, considera la risposta di Salvini al veto posto da Di Maio come poco più che una difesa d'ufficio. Tutti scommettano che Salvini mollerà il Cavaliere. Voi che ne pensate? Salvini mollerà il Cavaliere? Io qualche ideuzza in merito ce l'ho. Cassese oggi, in un articolo molto interessante sulla prima pagina del Corriere della Sera, fa un'analisi sui nuovi eletti e dice che il Movimento 5 Stelle ha 73% dei nuovi eletti che non erano precedentemente parlamentari. Addirittura l'86% degli eletti del Movimento di Salvini non erano parlamentari, quindi sono novizi del Parlamento. Perché è importante questo sondaggio? Perché, dice Cassese, quelli del Movimento 5 Stelle sono novizi del tutto, non hanno mai fatto politica. Il 16% soltanto di tutti quanti gli eletti ha un'esperienza politica. Invece il Movimento della Lega ha portato in Parlamento gli amministratori locali, quelli che hanno governato il Paese, quelli che hanno governato le città, i sindaci, quindi è una composizione completamente diversa. Questo è il ragionamento che fa Cassese, quindi sono nuovi parlamentari, quelli della Lega, ma comunque con un'esperienza e quella evidentemente nei rapporti con Forza Italia, dove governano insieme, forse ha un peso, bisognerà spiegare, nei territori locali per quale motivo, ad esempio, Salvini fa un accordo con il Movimento 5 Stelle, mentre in Lombardia, in Veneto, in Friuli, in Liguria, l'accordo non fa. Dice Elisabetta, non gli conviene a Salvini. Non lo so se non gli conviene, perché se questo può essere per Salvini il modo per dare la mazzata finale, forse gli conviene. Ciao Nicolino, mi dice Anna. Per il giornale, Luciana dice, un uomo di parola, perciò no. Insomma, quelli che ci stanno seguendo sulla zuppa ora pensano che Salvini ha fatto un accordo, sono arrivato al 37%, quindi non lo mollerà Berlusconi. Staremo a vedere, perché forse lo metterà in un angolo, oppure lo metterà nelle condizioni di dover dire di sì a qualsiasi cosa, vedremo. Detto questo, per il giornale di Sallusti, il pezzo è molto duro. Il direttore del giornale che cosa dice? Dice che quella di dividere gli italiani tra buoni e cattivi, soprattutto gli elettori del Movimento di Berlusconi, dice Sallusti, è un atteggiamento da fascistello. Quindi Sallusti dà del fascistello a Di Maio. Fini, in maniera poco lucida, anche se scritto bene, dice oggi sul fatto che Mattarella non può ricevere un pregiudicato, ma in realtà poi si confonde, perché nelle ultime tre righe dice non riesco a capire, dice Massimo Fini, come possa un paese normale avere come pregiudicato un candidato premier un pregiudicato. E no, non sale al Quirinale perché vuole fare il premier, neanche il parlamentare, posto che fra due anni potrà farlo per le stesse leggi italiane, cioè per la durissima Severino, che Berlusconi contesta in sede europea, fra due anni potrebbe candidarsi a fare il presidente del Consiglio. Lo prevede la legge, chiaro? La legge. Ma il punto fondamentale, che non sta salendo per fare il premier, caro Massimo Fini, per quanto ti stia antipatico, come diceva ieri Malan, il Cavaliere, cerca di essere obiettivo, sale perché rappresenta 5-6 milioni di italiani che hanno votato Forza Italia. E molti di quelli italiani nei collegi non nominali hanno candidato anche uomini del Movimento della Lega. Carolina, Salvini tiene duro. Patrizia, buongiorno. No, tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento mi sembra che siano dell'idea che Salvini terrà duro. Molto interessante riguardo al costo delle banche e dei loro salvetaggi, un pezzo del Sole 24 Ore di oggi, che mette in evidenza come l'Eurostat, cioè il centro della statistica europea, su richiesta dell'Istat, abbia detto guardate italiani, non potete escludere 11,2 miliardi di salvataggi delle banche dal debito pubblico. Perché l'Italia voleva escluderli? Perché in realtà questi salvataggi delle banche non sono fatti soltanto togliendo soldi a noi e dandoli alle banche. No, sono fatti dando delle garanzie dello Stato, cioè lo Stato dà dei soldi che poi devono essere restituiti allo Stato, oppure garantendo un prestito di queste banche. Quindi però l'Europa è stata rigida. Ha detto anche se si tratta di garanzie, è aumento di deficit, che sarebbe quello che avviene ogni anno, e di debito pubblico. Questa cosa ovviamente imbarazza i conti pubblici, ma dovrebbe imbarazzare, adesso io la dico secca secca, cari amici, e qualcuno magari ci ascolta dal Veneto in questo momento. Ragazzi, questi 11,2 miliardi di cui parla l'Europa, oggi titolati sulla prima pagina del Sole 24 Ore, meglio che su altri giornali, sono al salvataggio delle banche venete, della Popolare di Vicenza di Zonin e della Veneto Banca. Queste banche venete non sono le banche tremende dei romani, della burocrazia, dei truffatori, dei politici di Roma o del Sud. Questi 11 miliardi se ne sono pappati, cari amici miei, manager, proprietari, cooperative, banche del vostro territorio veneto, che per il 60-70% ha votato Lega. Non è colpa di qualcun altro. Zonin è stato in quella banca per 20 anni, lo conoscevate, sapevate a chi dava i prestiti. Non è che ci si può prendere contro Renzi, contro Gentiloni, contro Berlusconi, contro Di Maio. Quella è una storia tipicamente veneta, come il Monte dei Paschi, oggi. È una storia tipicamente comunista, nel vecchio senso della parola. Ragazzi, questi 15 miliardi sono andati a salvataggio di banche venete, dove voi avete i conti correnti, e se le non le avessero salvate, oggi lo paghiamo tutti noi italiani, se non le avessero salvate, sapete che cosa sarebbe successo? Il cosiddetto bail-in. Cioè, avrebbero fottuto coloro che avevano depositi superiori a 100.000 euro. Allora, io non ho nessun pregiudizio, ovviamente, nei confronti di nessuno, però, insomma, raccontiamola bene questa cosa del costo del salvataggio. Oggi lo leggete molto, molto chiaramente sul Sole 24 Ore. Spotify, l'unico pezzo che oggi mi ha interessato, è quello di Market Watch, che è un sito internet che potete trovare, che dice una cosa molto semplice. Attenzione, non soltanto Spotify, che ha fatto una brillantissima quotazione, ieri ha guadagnato il 26% al debutto, vale 30 miliardi in borsa, ma gli scenari del futuro sono difficili per Spotify. E attenzione, il fatto che perda 500 milioni all'anno, che come vi ho segnalato ieri, non è la cosa più grave, ma la cosa più grave è che nel futuro avrà dei concorrenti, Apple, Google, Amazon, che difficilmente lasceranno campo libero alla Netflix della musica. Ricordatevi poi inoltre, dice Market Watch, che Spotify non è proprietaria della musica che voi pagate, se la pagate, 71 milioni di persone sono abbonate a Spotify, ma le grandi case produttrici sono le proprietarie. È interessante oggi invece un pezzo sulla stampa di Piero Negri, che spiega come in realtà lo streaming ha rivitalizzato il mondo della musica. Tre italiani su quattro già pagano la flat tax al 15%, sono moltissimi dunque, sono il 75% di italiani, titolo d'Italia oggi, che pagano, visto i loro redditi, una tassa ridotta, o anche perché hanno appena aperto delle partite IVA. La storia dei tulipani di Roma è straordinaria, perché racconta tutto. La cosa più semplice e banale è quella che dice Gramellini, cioè che i romani sono dei cafoni e dei vandali. In realtà aprono un parco di tulipani qua poco fuori in periferia a Roma e dicono che per un euro e mezzo potete prendere un tulipano e portarvelo a casa. Sia che abbia il bulbo, sia che non abbia il bulbo. Oggi sul messaggero si capisce cosa succede, che tutti quanti i romani che sono andati a questo bioparco, dove c'erano 300.000 tulipani, cosa hanno fatto? Alzavano il tulipano, non c'è il bulbo, boom, buttavano per terra. Rialzavano un altro tulipano, non c'è il bulbo, boom, lo buttavano per terra. Era una ricerca del bulbo. Hi from London, Angelo Sanna. In realtà, quindi, hanno creato un casino e si portavano a casa per un euro e mezzo, non i fiori senza bulbo, ma quelli col bulbo. Pensa tu che straordinari romani che volevano abbellire le loro terrazzine. Quindi questo dimostra che i romani sono un po' incivili, quelli che sono andati lì, e che tutta questa retorica che Roma è governata male, sì, è governata male, ma anche noi romani ci mettiamo del nostro. No, a meno che non ci siano i riflettori delle telecamere che fanno vedere che noi che puliamo, come possiamo dire, spaziamo la città per un grande senso civico, quando siamo lasciati liberi, i tulipani li stacchiamo. C'è anche da dire che, voglio dire, questi organizzatori dove pensavano di stare? Azzurigo! Che tu puoi strappare un tulipano a un euro e mezzo. È chiaro che quelli, il furbetto romano, ma anche non solo romano, c'è sempre. Insomma, l'organizzatore di fatti ha detto adesso non potete più prendervi i bulbi, potete strappare i tulipani, ma i bulbi non si prendono più. Insomma, un gran casino. Dice Fabio, educazione civica nelle scuole, qua purtroppo non è educazione civica nelle scuole, qua è educazione familiare nelle famiglie, perché se tuo figlio entra in un negozio e inizia a toccare tutto quanto, te daranno schiaffo un genitore i vecchi tempi. Qua i bambini stanno là, guarda, mamma, prendi il bulbo! Insomma, la trovo una roba che racconta 2000. Anche a Cornareno, magnifici tulipani, i romani normalmente sono più prepotenti, ma insomma, sì, c'è prepotenza, è fantastica invece l'idea che la Terra crei il personaggio. È arrivato da poco in Italia questo amministratore delegato della team, Genish, oggi in un'intervista dice Sky e Mediaset, attenzione alle concentrazioni, e comunque già sta facendo il pesce in barile, perché la Telecom la sta scalando un fondo Iliot, e Genish è arrivato grazie agli azionisti che si chiamano i francesi Vivondi, a proposito di concentrazioni ci sarebbe da ridere, e oggi sembra di aver fatto un pezzo per tenersi in ballo, anche se dovesse vincere il fondo Iliot. St'ultima cosa che vi racconto, ve la ricordate la licenziata dell'IKEA, per cui Gentiloni disse all'azienda ripensaci a un question time al Parlamento, addirittura i sindacati fecero lo sciopero, lei pianse, tutti i giornali ne parlarono, le televisioni le ha ripreso, nessun dubbio, il magistrato del lavoro, che peraltro in genere non è tenero nei confronti dei dettori del lavoro, ha detto il suo licenziamento è stato non discriminatorio. Questa signora a un certo punto cosa ha deciso? Intanto si è chiesta 17 permessi e in 15 casi l'azienda gliel'ha concessi, tranne che in due. E poi si autodeterminava gli orari, a un certo punto lei ha chiuso la cassa nell'orario di punta e se n'è andata. E tra l'altro dice è inutile che dica che è stata discriminata, questa godeva da anni della 104, prima per accudire il padre, la madre, e poi per il figlio, eppure ha fatto carriera nell'IKEA. Allora di che stiamo parlando? Stiamo parlando di una persona che non lavorava secondo i criteri minimi e normali di un'azienda peraltro molto generosa nei suoi confronti, vista le disabilità che l'hanno colpita e la difficoltà della sua vita privata. Quindi, ragazzi, facciamo marcia indietro a proposito di fake news. La grande eroina contro la multinazionale svedese, che anche a me sembrava una storia incredibile, è stata licenziata perché se ne è approfittata un po' troppo. Se questa zuppa vi piace, condividetela. Sono andato lungo anche oggi, 11 minuti sono troppi, devo ridurla. Mi spiace per chi ci ha seguito fino ad osse. Ciao Stefano, viva i sindacati! Scrive Stefano, non so se è ironico o è serio. Questa sera abbiamo Matrix alle 23.30, come sempre parleremo delle prime consultazioni e di tanto altro. condividete questa zuppa se vi piace e sul sito nicolaporro.it andate a farvi uno sguardo perché è completamente cambiato. Claudio, no, prolunga, no, più lunga di così non posso essere. Ciao Francesca! Il nuovo sito nicolaporro.it è molto più, diciamo... Ciao Francesca! Sì, questa sera c'è Matrix alle 23.30. Questa sera avremo un sito, cioè questa sera avremo un sito completamente diverso. Un abbraccio a tutti qua, con la scuola di Berlusconi mi sembra un ulteriore colpo di stato. e nei confronti di Forza Italia. Non so se questo è un colpo di stato, ma ognuno può. Non ridurre la zuppa ci piace, però non posso farle sempre così lunghe perché è davvero forse un po' troppo per la vostra pazienza. Ci vediamo questa sera e ci sentiamo sul sito nicolaporro.it Condividete se vi piace! Ciao!